Bentornati sul mio canale, oggi facciamo dei muffin con i fichi Sbattiamo le uova con lo zucchero Aggiungiamo l'olio di girasole e continuiamo a sbattere Mettiamo una bustina di vaniglina o un cucchiaino di estratto di vaniglia La buccia grattugiata del limone, biologico Mettiamo la farina un po' alla volta Mettiamo il lievito per dolci Ecco, vedete, deve avere una consistenza soffice come quando facciamo il pan di spagna Da noi si dice, deve scrivere la pasta Allora, adesso prepariamo i fichi Se sono piccolini, li possiamo mettere anche interi Ma devono essere piccoli Altrimenti metà ce li mettiamo E se sono molto maturi, io la buccia la lascio Naturalmente dopo averli lavati Adesso mettiamo un pezzetto di noce dentro il fico Adesso inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti I nostri muffin sono pronti Adesso li facciamo raffreddare Ecco i nostri muffin pronti Con il cuore di fichi Vi aspetto alla prossima ricetta Ciao ciao Allora per questa ricetta ho utilizzato due uova 90 grammi di zucchero 80 grammi di olio di semi di girasole 8 grammi di lievito per dolci Vanillina La buccia del limone E 65 grammi circa di farina E naturalmente, se sono piccoli, un fico per ogni muffin E un pezzettino di noce